Ben ritrovati! E' un saluto particolare a tutti i soci ANLA da parte di Federico Napoli. In questo video vi parlerò della Cupola delle Meraviglie, ovvero sia della Cupola del Duomo di Firenze. Di fronte a Santa Maria del Fiore, così si chiama, la Cattedrale Fiorentina, noi possiamo osservare l'enorme mole della Cupola, ancora oggi una delle più grandi costruzioni in muratura esistenti al mondo. E fu proprio questa sua enorme dimensione che ne impedì per decenni la realizzazione fra la fine del 300 e l'inizio del 400, allorquando le conoscenze tecniche e i mezzi e le conoscenze ingegneristiche non erano sufficienti per poterla realizzare. Addirittura si pensò fantasiosamente a fare un enorme monte di terra, addossando alla quale la costruzione della Cupola. Poi, per togliere quella terra, si era pensato di mescolare delle monete d'oro alla medesima e chiamare la cittadinanza a cercare le monete, in modo che, cercando le monete, la cittadinanza portasse via la terra. Ma fu un orologiaio, Filippo Brunelleschi, fiorentino, fu poi anche scultore, architetto, urbanista, ma in effetti in quel tempo si chiamava semplicemente capomastro, fu Filippo Brunelleschi a trovare il modo di costruire la Cupola senza centine, cioè senza supporti di sostegno nel momento della sua costruzione. E addirittura non ne realizzò una di Cupola, ma ne realizzò due, una dentro l'altra. E all'inizio gli operai del Duomo erano molto scettici. Alla fine accettarono la proposta del Brunelleschi mettendogli alcuni vincoli, tra l'altro affiancandogli un altro capomastro, Lorenzo Ghiberti. Ma il Ghiberti era un ottimo orafo, era un ottimo scultore, ma di architettura non se ne intendeva e Filippo mal sopportava questa limitante presenza di Lorenzo. E un giorno Filippo decise di darsi malato. Nel primo, al primo intoppo, il Ghiberti si fermò non sapendo come risolverlo e i sovrintendenti dell'opera andarono da Filippo per convincerlo a tornare sul cantiere. Ma Filippo disse, sono troppo malato. I sovrintendenti insistettero, ci sono dei problemi. Li risolverà Lorenzo. Ma Lorenzo non sa risolverli se non ci sei te. E allora Filippo rispose, ma io saprei risolverli se non ci fosse Lorenzo. I sovrintendenti capirono e lasciarono Filippo, unico responsabile della costruzione. Il Ghiberti, non si potette lamentare, delle cinquante passafinestre del Duomo Fiorentino, moltissimi cartoni per le vetrate, sono state opera sua. La cupola viene realizzata tra il 1420 e il 1436. A questa verrà aggiunta poi, sempre sul progetto del Brunelleschi, la lanterna. E oltre sopra la lanterna, la palla con la croce opera del Verrocchio. Il tutto entro il 1471. In cima alla croce siamo a 116 metri e qualche centimetro. Per questa altezza la cupola è il più grande gnomone al mondo. Come è potuto accadere? È accaduto che nel 1475 il matematico Paolo Dal Pozzo Toscanelli collocò a 90 metri di altezza una ghiera gnomonica, un foro gnomonico, dove il solstizio d'estate, il sole, la luce, passa e colpisce una lastra predisposta sul pavimento di una delle cappelle laterali della cattedrale, la cappella della croce. Era un modo per controllare la posizione del sole e per un paio di secoli fu anche un modo per verificare la staticità della cupola. Fintanto che un astronomo, Leonardo Ximenes, a Firenze c'è l'osservatorio ximeniano, collocò sul medesimo pavimento della cappella della croce la linea della meridiana, riuscendo a realizzare uno strumento compiutamente astronomico, il quale ancora oggi, per il solstizio d'estate, fa bella mostra di sé sotto gli occhi stupiti dei visitatori. Ma i fiorentini la cupola del Brunelleschi non la chiamano così, la chiamano il cupolone. E dall'ombra del cupolone Federico Napoli vi saluta.